Chi sa muovere meglio il bacino? A chi non piacciono gli anime? Chi è il più bravo a giocare a calcio? Chi ha gli occhi più belli? Chi è il più credente? Chi è il più bravo a cantare? Chi ama di più il proprio fandom? Fermi, la decisione spetta ai follower. Ditelo nei commenti. Grazie a tutti.